La scuola sulla bocca di tutti per usare le parole del segretario generale del Censis Giorgio Derita, ma nel cuore di pochi. Al meeting l'appello arriva dall'intergruppo parlamentare per la sussidiarietà che si è confrontato su educazione e formazione per liberare le iniziative della società. A poco più di tre settimane dal via al nuovo anno scolastico tutti concordano sulla necessità di tornare in aula, così Lupi attacca chi come Ricciardi anche solo ipotizza lo slittamento dell'apertura. Caro Ricciardi le scuole non si chiudono più perché sono la prima e principale risorsa che abbiamo in questo paese, qui parlo a mio nome, la smetta di dare incertezze su questo perché oggi è vergognoso che ancora una volta si dica non sappiamo se le scuole riapriranno, le scuole sono la cosa più importante che abbiamo, è il nostro patrimonio. Sul tavolo senatori e deputati dell'intergruppo stimolati da Derita e da Ferruccio De Bortoli mettono il tema dell'autonomia scolastica e della relazione tra scuole, territori e aziende, la necessità di investire sul capitale umano, quella di un rapporto proficuo tra scuola statale e paritaria. Ci sono Maria Stella Gelmini, Fabio Rampelli, Simona Malpezzi, Gabriele Toccafondi. La scuola, dice l'esponente d'Italia Viva, si fa in presenza e con il corpo classe al completo. Le linee del comitato tecnico scientifico scritte a fine maggio possono e devono essere riviste. Occorre assolutamente rientrare e tutti a scuola. La didattica a distanza è stata utile in un momento di chiusura totale, quindi marzo-aprile, ma abbiamo visto anche quali sono gli aspetti negativi della didattica a distanza. Poi Giancarlo Giorgetti, secondo cui se le politiche educative non sono una priorità è perché esse sono il terreno del pensiero lungo, mentre la politica di oggi ha un pensiero breve e anzi affannoso. La relazione, l'amicizia sono le cose che mandano avanti la nostra umanità. Non c'è civiltà, non c'è relazione, non c'è e non ci può essere educazione. Quindi il fatto che il meeting abbia voluto mezzo a tante difficoltà di ogni tipo, sperimentare ovviamente anche con quello che si può fare col distanziamento sociale, trovarsi è un ribadire l'importanza di questo, l'importanza dei rapporti tra le persone, l'importanza della discussione, del confronto e del mettergli delle idee perché di questi tempi le idee sono merce rara.